brevemente volevo mostrarvi come condividere un file in google drive allora apro google drive qui ho tutti i miei file, ossia le mie cartelle apro una delle mie cartelle con doppio clic vado su un file che non è ancora condiviso ad esempio questa scheda che si chiama scheda mind map clicco con il destro sulla scheda e clicco su condividi in questa finestra vado in avanzate avanzate e chi ha accesso vado in modifica e ho tre opzioni pubblico sul web attivo chiunque abbia il link non attivo persone specifiche clicco su attivo chiunque abbia il link ossia chiunque abbia il link può accedere e non è richiesta autenticazione ok posso poi scegliere che chiunque acceda al file può visualizzare può commentare può modificare allora se su questo file si lavora più mani metterò può modificare se il file serve per la condivisione e il download lascio può visualizzare salvo queste impostazioni e ora mi dà la possibilità di avere il link che manderò alle persone con cui vorrò condividere questo file quindi copierò con il destro copia il link che invierò una volta che ho copiato il link clicco su fine e vedete che la scheda mind map mi risulta condivisa qualora volessi vi ripeto che qualcuno lavorasse sul mio file mi converrebbe quindi riandare in condividi e inserire inserire i nomi o gli indirizzi delle persone che voglio possano modificare il mio file quindi chiunque abbia il link può vedere copia il link alcune persone le posso invitare per mail a modificare il mio link in questo modo il lavoro diventerebbe un lavoro condiviso a più mani buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti